Portare all'Europa la voce delle regioni e delle città. È l'impegno di Elisan, che da anni raccoglie le testimonianze e le buone pratiche delle politiche sociali di tutta Europa. La rete Elisan, creata nel 2008 dal Comitato delle Regioni, è in costante dialogo con la Commissione europea per portare al cuore dell'Unione le problematiche e le iniziative sociali dei piccoli territori. Alla conferenza annuale di Elisan si sono dati appuntamento a Bruxelles i rappresentanti dei 12 paesi aderenti per condividere esperienze e idee per una politica sociale organica e coerente. Credo che anche oggi abbiamo dimostrato che questo lavoro di questi due giorni sono molto importanti per produrre un documento da inviare al Commissario Andorra e al Presidente della Commissione Barroso per spiegare come cambiano le condizioni nei territori, non in 50 anni ma neanche in 10 anni, cambiano in 3 anni. Al centro del dibattito le politiche giovanili, dall'educazione all'inserimento nel mondo del lavoro e il sostegno alla famiglia, con un occhio di riguardo alla conciliazione famiglia-lavoro. Un anno fa la Commissione europea adottò un pacchetto di iniziative fra le più importanti. Ci sono gli accordi di garanzia per limitare la disoccupazione giovanile dei giovani al di sotto dei 25 anni. Una battaglia che non può essere solo economica, concordano Remus Ernagiotto, Presidente di Elisan, e Henry Malosse, Presidente del Comitato delle Regioni. 6% di tutti i fondi europei tra 2014 e 2020. Il programma per i giovani della comunità europea non rappresenta che lo 0,6% del pacchetto di spese 2014-2020, che non è sufficiente. Inoltre, alcune procedure burocratiche vincolano l'accesso ai fondi. L'Unione europea non ha bisogno di complicanze burocratiche, ma di azioni concrete. È il percorso scelto da Elisan di disegnare le politiche sociali per porre al centro dell'interesse il cittadino. Un'ambizione che dopo soli 5 anni di attività, 3 di Presidenza Veneta, mostra già i primi frutti. In questi tre anni di nostra Presidenza, di Presidenza Veneta, abbiamo creato dei rapporti importanti, ma soprattutto abbiamo dato delle risposte. Pensiamo che questa rete europea è stata finanziata per la prima volta, due anni fa, dalla Commissione europea. La Commissione europea finanzia dei progetti delle reti solo se fanno qualcosa di concreto. Significa che noi lo stiamo facendo.